Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Plan da depressione in movimento sul Mediterraneo porta piogge sparse. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 10 settembre. Nubi sparse al mattino sul nord-ovest, Sardegna e Sicilia, con piogge possibili anche su Alpi Occidentali e Isole Maggiori. Sole prevalente altrove. Al pomeriggio addensamenti in transito su tutta la penisola, con piogge e temporali sparsi soprattutto sulla Sardegna. Locali fenomeni anche su Sicilia, Calabria, zone interne del centro e Arco Alpino. In serata e nottata ancora tempo instabile con precipitazioni sparse su Isole Maggiori e Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in generale rieve rialzo da nord a sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.